Ci troviamo al Sacromonte con Maria Rosa Bianchi, presidente degli Amici del Sacromonte e in particolare ci troviamo in via Fincarà, una stradina che parte per capirci più o meno dalla stazione di Monte della Funicolare e che arriva lungo la via Sacra. Una strada però che ha qualche problemino. Perché? Cosa succede signora Bianchi? Succede che durante i weekend, le festività, da questa strada si infilano molti turisti che, ingannati dal navigatore, pensano di scendere a Varese o poi di andare al Borducan o di andare al Museo Pogliaghi. E quindi, essendo una strada stretta, a doppio senso di marcia, quindi anche pericoloso perché si incontrano le persone che abitano in fondo e quindi salgono, essendo una strada stretta, poi se non riescono a capire subito che si sono sbagliati e quindi riuscire a invertire il senso di marcia, che può essere fatto soltanto fino a qua, al Bed and Breakfast, il parco degli Affeschi, perché più sotto è troppo stretta, si trovano in fondo e si infilano nella stradina strettissima e non riescono più a muoversi. Nel weekend scorso una decina di macchine sono scese. Nel weekend precedente, con anche il 2 di giugno del venerdì, 26 macchine sono scese. E gli abitanti in fondo hanno dovuto aiutare questi malcapitati a fare inversione, se non farla lavoro stessi l'inversione, perché magari ha persone che non sono abituate a queste strade così strette, non conoscono la zona, e quindi gli aiutano proprio materialmente a fare inversione e tornare indietro.